amici di auto digest oggi vi presentiamo tecnomar for lamborghini 63 una barca di 19 metri da oltre 111 chilometri orari andiamo a scoprirla provare sul mare le stesse emozioni regalate dalla guida di una lamborghini siam e quello che italia sia group di giovanni costantino ha realizzato con il tecnomar lamborghini 63 e le emozioni iniziano dal rombo quello pazzesco tipico di una supercar 19 20 metri 4000 cavalli forniti da due motori man è oltre 110 chilometri l'ora una velocità da offshore insomma una barca molto esclusiva prodotta in serie limitata per clienti esclusivi è realizzata tutta in fibra di carbonio ed è leggerissima insomma un offshore per tutti o quasi